Benvenuti a Mappamundi. L'Indo-Pacifico non è pacifico, è il titolo dell'ultimo volume di Limes di cui vedete la copertina e appunto di questo parliamo oggi con Fabrizio Maronta e Dario Fabri di Limes. Entriamo subito nel tema di questo volume, il tema di fondo leggiamo appunto nel sottotitolo della copertina, viaggio nell'Asia degli Stretti, il cuore del duello Stati Uniti-Cina, quindi entriamo in quest'area del mondo, che poi vedremo con le carte di Laura Canali, che è il luogo del confronto tra Stati Uniti e Cina e parliamo di questa fascia costiera del Marcinese Medidionale arrivando fino all'Indocina e agli Stretti. Fabrizio cominciamo da te, il cuore di questo duello quindi e quest'area del mondo? Beh questo è uno dei punti caldi, molto caldi di questo duello, non l'unico ma sicuramente uno dei punti focali, perché qui l'elemento prettamente diciamo geopolitico che incrocia varie dimensioni, economica, militare, politica, diplomatica in senso stretto, incrocia poi l'elemento, si somma all'elemento prettamente geografico che caratterizza questo luogo, che non a caso viene definito anche nel volume a più riprese il Mediterraneo asiatico. Intanto lo mostro, abbiamo questa carta nel teatro Indo-Pacifico così le persone si rendono conto. Un mare, quello cinese melidionale, che è incapsulato tra la costa cinese, che poi tra l'altro è l'area più sviluppata della Cina e anche quella dove risiedono le due tra virgolette capitali della Cina, cioè quella prettamente economica Shanghai e molto più su, un po' più nell'interno quella politica Pechino, che è tutti gli altri stati costieri, un mare che la Cina rivendica fondamentalmente come suo e che è estremamente rilevante perché non solo per le dispute marittimo-territoriali che insistono e che fondamentalmente oppongono la Cina a tutti gli altri stati del litoranei, ma anche perché la valenza economico, commerciale e quindi anche militare di navigazione in generale di queste acque rende acque assolutamente strategiche per i commerci mondiali, gli equilibri mondiali, soprattutto economici, in una fase tra l'altro così delicata come quella del Covid o post-Covid e in generale anche per le ambizioni di proiezione esterne della Cina. E allora Dario, in tutto ciò gli Stati Uniti qui giocano un ruolo preponderante e fondamentale, in che modo? Giocano un ruolo che è conseguito loro da almeno due caratteristiche, da un lato la superiorità navale che tuttora conservano, quindi hanno la capacità di interdire alla Repubblica Popolare essenzialmente di fare ciò che vuole, qualcuno sostiene anche di uscire di casa, insomma detto in maniera più semplice, ancora oggi, dico ancora oggi perché sono passati, è passato qualche decennio da quando la Cina è tornata ad essere un vero attore non soltanto regionale, non è in grado di dominare in assoluto i mari riveraschi, nemmeno il mar cinese meridionale a cui Fabrizio faceva riferimento, che è il mare cruciale per eccellenza per la Repubblica Popolare, non è ancora nella sua assoluta disponibilità, non soltanto per colpo merito degli Stati Uniti, fate voi, ma anche per le rivendicazioni incrociate con tutti i paesi riveraschi che non hanno intenzione di arrendersi o semplicemente di accettare il dominio cinese, questa è la prima caratteristica che consente agli Stati Uniti di inibire il dominio cinese nell'area, quindi la superiorità navale, per l'altro in concomitanza con le rivendicazioni altrui e dall'altro c'è una capacità che è fisiologica, quasi non di merito degli Stati Uniti, ovvero il fatto che l'America non è una nazione asiatica, non vive nel continente, perché questo è così importante, perché induce in maniera strutturale i paesi che poi cingono la Repubblica Popolare, che sono confinanti con essa a scegliere tra Stati Uniti e Cina, inevitabilmente Washington, per il semplice motivo è uno dei principi classici della strategia che se si ha l'opportunità di scegliere fra due potenziali egemoni si sceglie quello più lontano, quello non residente si direbbe con un participio presente che va un po' di moda, nel senso quella potenza che si immagina tra qualche decennio per consunzione del suo impero non sarà più capace di rimanere in loco, quindi non potrà essere un danno definitivo per secoli e secoli, insomma l'impero cinese che esiste da millenni sempre in Asia sarà, i paesi confinanti vivono nel terrore di essere dominati da esso perché non scomparirà, gli Stati Uniti scompariranno dal continente asiatico intendiamo, prima o poi saranno costretti nel continente nordamericano, questi due fattori la superiorità navale e l'aspetto geografico unito al dominio parallelo che gli Stati Uniti hanno sul loro continente di appartenenza, cioè sul Nord America, dove i cinesi non riescono a compiere la manovra opposta, non riescono ad insidiare gli americani così come gli americani invece insidiano i cinesi nel loro di continente, tutto questo ha determinato negli ultimi anni un regredire della Cina nella sfida agli Stati Uniti che si ritrova e ne parleremo davanti ad alcuni cambiamenti veramente epocali che riguardano potenze non soltanto vicine alla Cina ma fondamentali su tutto il Giappone e l'India e forse un piccolo Stato ma molto fastidioso peraltro nucleare come la Corea del Nord che in questi anni si sono allontanate ma non soltanto allontanate la Repubblica Popolare ma che tendono ad insidiarla a loro volta nel suo spazio d'elezione. Allora vediamo quest'altra carta, la Cina cerca spazio di cui parlavi proprio tu Dario, quindi qui vediamo un po' abbiamo la posizione cinese, vediamo illustrati qui le rotte terrestri della Via della Seta, l'intesa tattica tra Russia e Cina, quindi dal lato abbiamo la Cina che ha una politica di proiezione verso l'Europa, verso la Russia, però dall'altra parte viene chiusa nel suo mare di casa proprio invece sulla costa di cui parliamo oggi, stiamo parlando quindi di questa area del mondo dove partiamo dal quadrante che ci davi tu, cioè dalla Corea e Giappone e poi scendendo abbiamo tutta una serie di contenziosi e questioni fondamentali geopolitiche dalle isole Senkaku che riguarda ovviamente il contrasto col Giappone, Tavane di cui abbiamo parlato anche in altre puntate e arriviamo al mar cinese meridionale che l'IMES definisce il Mediterraneo asiatico in questo volume. E lo è, lo è di fatto, nel senso questa carta dell'Aura Canali lo dimostra in maniera plastica, cioè un mare che si incunea fra i territori, fra le terre, quindi è frastagliato nel suo esistere che rende non solo più complessi i movimenti, le manovre al suo interno, ma consente ad una moltiplicità di stati e soggetti di affacciarvi e quindi di rivendicarne alcune porzioni, soprattutto le isole, qualcuno dice che soprattutto è una questione di giacimenti energetici che sarebbero presenti nel sottosuolo, semplicemente conviene controllare un mare come questo perché consente o meno, come dicevamo all'inizio, a qualcuno o a qualcun altro di uscire di casa, cioè di avere soprattutto una proiezione definitiva oltre se stesso che altrimenti non riesce ad avere. Finché ci sono gli americani a rompere le scatole davanti ai porti di casa, di casa, intendo cinesi, per la Cina è tutto molto complicato, se a questi si aggiungono, intendo gli americani, i giapponesi che hanno una marina assolutamente competitiva, che sarebbe un grande avversario per la Cina in qualsiasi guerra e a questi si aggiunge poi l'Australia e poi l'India. Un Giappone, scusa se ti interrompo, che tu come scrivi, hai scritto già negli anni passati in Limes, un Giappone che sta tornando a giocare un ruolo importante in questa area anche sul piano del riarmo. Non c'è dubbio sul piano del riarmo, ma basta anche valutare un dato che fa semplicemente impressione. Il Giappone negli ultimi 5 anni ha investito più del doppio della Cina in progetti e prestiti nel sud-est asiatico, più del doppio. Noi abbiamo l'impressione, anche corretta, ci mancherebbe che la Cina sia in espansione anche finanziaria, prestiti, infrastrutture nel proprio cortile di casa. Il Giappone ha doppiato la Cina per investimenti. Ci sono alcuni sondaggi scenograficamente cruciali, come quello ultimo realizzato fra i paesi dell'ASEAN, che hanno dichiarato di considerare il Giappone la superpotenza più affidabile del continente. Ci voleva poco a non considerare la Cina affidabile in assoluto, visto che la Cina fa paura e il Giappone molto meno, però è un dato paradossalmente, dato il passato coloniale funesto del Giappone, però è un dato molto importante. Se a questo aggiungiamo, facciamo riferimento nel mio primo intervento, a che cosa sta capitando all'India. L'India storicamente non considera la Cina un grande problema. Sì, ha combattuto una guerra nel secolo scorso con la Cina, però c'è l'Himalaya di mezzo. Immediamente nel pezzielo strategico indiano la catena montosa più alta del pianeta è sempre servita come schermatura decisiva nei confronti della Repubblica Popolare. Questa percezione si sta modificando negli ultimi anni, perché la Cina è andata, anche negli ultimissimi giorni potremmo dire, a provocare gli indiani proprio lì, in un territorio conteso. Sull'Himalaya lo scorso giugno c'è stato uno scontro a colpi di mazze e sassi, sono morti almeno 20 militari indiani, non si sa quanti cinesi che sono precipitati nel vuoto, ma al di là della battaglia in sé, questo ha diffuso fra gli strateghi indiani la percezione che l'Himalaya non sia più quella difesa assoluta nei confronti della Repubblica Popolare e che la Repubblica Popolare rappresenta una minaccia esistenziale. A suo modo Pichino è costretta, perché va a disturbare o a provocare gli indiani proprio lì? Perché vuole che l'India rimanga ancorata alla terra, che si concentri sui problemi che ha sulla terra affinché non si impegni in mare. Torniamo a quello che diceva Fabrizio all'inizio, su quel mare che è cruciale, dove dal punto di vista di Pichino meno attori ci sono, meglio è, ma questo è un boomerang controproducente perché mentre la Cina vuole provare a costringere l'India sulla terra provocandola nell'Himalaya, la convince al contrario che la Cina è una vera minaccia e dunque si deve avvicinare agli Stati Uniti che chiedono a Delhi di impegnarsi sul mare. Questo per dare l'idea della complessità dello scenario. E poi tra l'altro, se posso aggiungere solo una chiosa, il confinamento terrestre, che poi è la dimensione storica della Cina, che è un impero tradizionalmente continentale e poi è esattamente ciò che l'India dal canto suo e gli Stati Uniti, di cui l'India compartecipa della, come vogliamo dire, cintura di sicurezza o cordone sanitario anticinese, vorrebbero verso la Cina. Cioè evitare, diciamo, che compia il salto da potenza terrestre a portatenza marittima, che tra l'altro è un salto storicamente molto difficile, che non si compie dall'orgere del domani e non è solo un fatto numerico, quante navi hai. Anche a Mediunità. Anche a Mediunità. Geograficamente, e qui ripeto, veramente con ottica proprio limesiana, ma l'elemento geografico è veramente fondamentale. Sono due arcipelaghi, li vediamo qui, proprio anche geograficamente centrali in questo mare, a sua volta centrale nella disputa. E poi il simbolismo della contesa sta nel fatto che il fatto che la Cina sia opposta a determinati paesi, nella rivendicazione di queste isole, di questi arcipelaghi, è proprio sintomatico di tutto quello che stiamo dicendo. È inutile andare a scavare troppo nella storia per capire se queste isole, paracerso, spatti come del resto anche le Senkoku, con termine giapponese più a nord, fossero storicamente prima giapponesi o prima cinesi. Anche perché di fatto le entità storiche, Cina, Giappone, come del resto anche gli altri stati litoriani, così come li conosciamo oggi, secoli fa in gran parte non esistevano, tra l'altro c'è il colonialismo di mezzo, quindi qui siamo in uno di quei classici casi in cui la storia poi è in qualche modo interpretata e costruita anche per accreditare le rivendicazioni attuali. Quello che però è interessante vedere, mappa alla mano, è che per quanto riguarda le Palacelso, l'isola è opposta a che cosa? Ha due parti di mondo che essa tende a considerare i suoi appendici. Taiwan per ragioni più che ovvie, che essa considera di fatto una sua provincia, anzi regione per essere più precisi, e il Vietnam che da un punto di vista storico è sempre gravitato sulla Cina e che in questo momento, e anche il cromatismo della mappa lo evidenzia, è un paese che paradossalmente, ma questa parte del mondo è piena di paradossi, dato il passato di guerra atroce che gli Stati Uniti hanno combattuto lì, in questo momento in realtà ha scritto pienamente al campo statunitense, perché fondamentalmente tra un male e l'altro ha scelto quello che ritiene essere il male minore, tanto per essere consciente. che sono in blu sulla carta, quindi diciamo, le Palacelso è fondamentalmente un po' se vogliamo l'epitome di come la Cina è opposta a se stessa, cioè della incapacità in questo momento della Cina di riunire, questo sarebbe poi il disegno politico di Xi, se stessa a sue parti che storicamente essa, in maniera diretta o indiretta, ritiene afferenti a se stesse. Per quanto riguarda le Spratly, invece, qui a essere sintomatico, che sono più a sud più aggettanti o vicini al Borneo, quindi fondamentalmente all'Indonesia e in parte alla Malesia, è invece fondamentalmente il simbolo di quello che dicevamo prima, cioè del fatto che qui in quest'area di mondo ci sono una serie di paesi, in particolar modo sicuramente nella contesa sulle spatri le Philippine, il Vietnam e Taiwan, Brunei e Malesia sono più, da questo punto di vista, diciamo, meno ascrivibile al campo americano, che in qualche modo sono presi in un dilemma, cioè dipendenza o comunque forte interdipendenza economica da Pechino, anche se da un punto di vista finanziario specialmente anche dal Giappone, ma soprattutto in questo caso dalla Cina, e il fatto di far parte di un'alleanza o comunque di un sistema strategico che invece per la sicurezza guarda agli Stati Uniti. Se noi vediamo quali sono i paesi appunto che si contendono con la Cina, per ragioni prettamente geografiche in quel caso, ma che si contendono con la Cina e le Spratly, sono fondamentalmente, in maniera più o meno diretta, il sistema, diciamo, di alleanze statunitense rispetto alla Cina. E intanto mostro questa carta che vediamo nel dettaglio delle Spratly e dove qui, per renderci conto, parliamo anche di scogli, no? Sì. Quindi che assumono una valenza geopolitica. Sì, a cui, se permetti, si aggiungono poi le isole artificiali che a partire, diciamo, dagli atolli color lì, la Cina ha edificato, poco più che scogli, certo, ma su cui poi è appiattato... Sì, scogli che stanno diventando delle isole artificiali, no? Delle basi anche... Al di là del danno ecologico che pure c'è, ma qui il fatto è che la Cina sta tentando fondamentalmente, diciamo, di costruirsi dei punti su cui poi tracciare la linea che secondo, diciamo, la Convenzione Internazionale delle Nazioni Unite, l'Unclos, che poi è, diciamo, di volta in volta accettata o rigettata a seconda delle convenienze, in questo caso, le consentirebbe di tracciare una linea di acque territoriali, le 12 miglia nautiche, per far sì che tutto questo sia maresum. E qui ci sono, Dario, anche degli scontri, veri e propri scontri navali, cioè, proprio atti di forza, no? Che a volte vengono fatti con piccoli pescherecci, ma a volte anche con navi da guerra. E qui, appunto, quest'area è così importante per gli Stati Uniti che potrebbero qui scatenare una guerra? O potrebbe essere invece innescata più da incidenti, con coinvolgimento di altri paesi? Cioè, la partita geopolitica più ampia qui diventa, no, locale. Diventa locale, però è più una questione di incidenti. Cioè, è vero che gli Stati Uniti sono una superpotenza particolare nella storia perché tendono ad essere status quo, ma anche revisionisti allo stesso tempo, che è una particolarità non da poco, nel senso, per chi ci ascolta, mediamente chi domina il pianeta vorrebbe tenerlo così com'è, conservatore, vuole mantenere il primato. Negli anni gli Stati Uniti, in maniera più o meno dannosa ed autodannosa, si sono lanciati in vere e proprie operazioni di revisione dello status quo. Vengono in mente campagne esotiche molto bizzarre, se non fossero state anche drammatiche, come in Iraq o in Afghanistan, che non avevano senso sul piano del mantenimento del primato internazionale, nemmeno quello regionale, che poi gli Stati Uniti hanno realizzato. Questo non c'è, per molte ragioni, che oggi non indagheremo, lo diamo per scontato, ma non c'è nel sud-est asiatico, non c'è in quest'area. Cioè, gli Stati Uniti qui vogliono soltanto mantenere lo status quo, per questo non hanno interesse a scatenare una guerra, per rispondere alla tua domanda, il che non vuol dire che non possa succedere, tutt'altro. Spesso, come in tutte le questioni umane, le vicende capitano contro ciò che noi avevamo disposto a tavolino, quindi può esserci un incidente, oppure la disperazione o la difficoltà. Vedremo come sarà della Repubblica Popolare che provocherà tal punto un incidente che poi possa tradursi in guerra. Per gli Stati Uniti va benissimo così com'è. Cioè, per dare un'impressione, ne abbiamo già parlato qui altre volte con te, che cosa ci serve un mare come questo per stabilire l'equilibrio a livello internazionale fra i due grandi sfidanti. Spesso si ha l'impressione, è un po' la vulgata, è un po' anche una sorta di analfabetismo strategico, che la Cina sia in grande vantaggio o perlomeno all'offensiva. Poi però scopriamo che non è la Cina nel Golfo del Messico o davanti alla costa atlantica o pacifica degli Stati Uniti ad interdire i movimenti dell'America o a minacciare semplicemente di occludere gli stretti che conducono all'approvvigionamento di qualsiasi tipo degli Stati Uniti. Nemmeno lontanamente. La Cina non ha questa proiezione, non ce l'avrà per i prossimi anni, chissà se ce l'avrà mai. Sono gli Stati Uniti che si trovano in un mare cruciale come questo, che passano all'occorrenza davanti alle coste cinesi o impediscono alla Cina di dominare con la forza i suoi vicini soltanto perché esistono gli Stati Uniti. Tu prima citavi gli incidenti che avvengono mediamente tra alcuni mezzi dei paesi litoranei e quelli della Cina. Sono incidenti ad esempio che la Repubblica Popolare quando affonda un peschericcio altrui per intenderci qualcosa che capita spesso alle Filippine o al Vietnam, lo fa attraverso la propria guardia costiera e a volte anche con imbarcazioni coperte di non facile identificazione proprio perché non può, non solo perché, evidente, non può inimicarsi oltremodo i paesi con i quali poi deve convivere, ma anche perché vuole evitare una reazione più dura sul piano propagandistico degli Stati Uniti. Perché un altro elemento che manca alla Cina è l'assoluta assenza di una missione imperiale che arrivati a questo punto della sua evoluzione è decisiva. Cioè gli Stati Uniti si sono dotati di una fittizia, chiamiamola come vogliamo, siamo in un ambito di propaganda, ma una missione imperiale dall'inizio del Novecento, centrata sul rispetto della libertà, la diffusione della democrazia, i diritti umani, eccetera, eccetera. Qualcuno ci crede veramente, ma questo conta meno, ma anche bene crederci perché sarebbe un mondo migliore, ma comunque gli Stati Uniti utilizzano soprattutto in forma di propaganda. La Cina non ha una missione per tirare verso sé gli altri e se tu hai questi contenziosi di cui discuteva Fabrizio, isole, isolotti, alcuni addirittura costruiti artificialmente, in più sei il paese geograficamente più presente, anche demograficamente, molto ingombrante, quindi hai già delle caratteristiche che ti rendono indigesto ai tuoi vicini. Se non ti dà neanche una missione, un modo di edulcorare te stesso, nei confronti degli altri diventa molto dura. Spesso viene raccontato questo come una tipica assenza di universalismo asiatico, il che non è vero, perché il Giappone, che non è esattamente un paese europeo, ha avuto nella sua fase di colonialismo una missione vera e propria, che era una missione panasiatica, cioè si presentava ai paesi che sottometteva come liberatore dal colonialismo altrui. La Cina dovrebbe avere più o meno questo tipo di missione, se io fossi uno stratega cinese e dovessi consigliarla. Cioè, dire che cosa al Vietnam, che Fabrizio raccontava come molto vicino agli Stati Uniti e lo è, alle Filippine, ma in parte anche alla Malesia, a Singapore. Voi siete così vicini agli Stati Uniti, ma è una forma di neocolonialismo. Noi, invece che siamo cinesi, possiamo liberarvi da questo gioco e condurvi in una dimensione puramente asiatica. Questo tipo di missione, distillata in questa maniera, Pichino ancora non è riuscita a realizzarla. Ed è una grave mancanza che in un mare come questa, non soltanto, diventa un ulteriore fattore negativo. Vedono, scusa Fabrizio, chiudo. Soltanto una potenza che ha rivendicazioni territoriali e commerciali, che non ha un proposito più alto. E questa è una mancanza. Allora Fabrizio, intanto, scusa, mostro l'altro quadrante che poi andiamo a parlare degli stretti, no? Che è l'altra, quindi dopo questi archipedetti contesi entriamo, qui sono numerati, quindi abbiamo uno, il più importante, lo stretto di Malacca, ma è una regione piena di stretti. Però mentre guardiamo questa carta, appunto, vuole raggiungere? No, molto semplicemente. Io sono molto d'accordo con quello che dice Dario sul fatto della missione imperiale. Tra l'altro, ricorderai Dario che in tempi non sospetti facciamo quel numero di Limes il marchio giallo, che fondamentalmente era proprio su quello, cioè alla Cina manca il marchio, che fondamentalmente è questo. Il brand imperiale. Che non è il brand sul telefonino, ma è il brand imperiale, ma forse, dico senza voler essere geograficamente deterministici, perché sennò poi non si può ridurre la geopolitica a un elemento solo, che sia l'economia, la geografia o quant'altro. Poi il fatto che il Giappone sia un arcipelago e che quindi abbia una proiezione marittima, diciamo, tradizionalmente forte, così come ce l'hanno gli Stati Uniti affacciati sui dueceni e così come ce l'aveva, tanto per fare un altro esempio, l'Inghilterra per l'appunto, e che la Cina invece c'era una potenza prettamente geograficamente continentale, forse qualche ruolo ce l'ha in tutto questo. Quanto agli stretti, invece dunque, oltre a tutto questo di cui stiamo parlando, ricordiamoci sempre che una delle volgate che noi pervicacemente cerchiamo di smentire all'IMES è quella dell'epoca immateriale. Se il fattore geografico conta qualcosa, siamo fortemente convinti che conti. Questo è tanto più vero in un punto come questo, che è un punto stretto, cioè è un punto in cui, diciamo, le terre formano dei bracci di mare esigui, angusti, in cui passa molta roba. Cosa in particolar modo? Beh, soprattutto da quando gli Stati Uniti hanno fatto la loro tra virgolette rivoluzione energetica degli ultimi anni con i gas idrocarburi d'ascisti che si sono in parte, in parte affrancati dal petrolio medio orientale, per la Cina, per quegli stretti, Malacca e dintorni, passano soprattutto gli idrocarburi che dal Medio Oriente vanno ad alimentare la Cina. E qui vediamo appunto la rotta che vado qui ad evidenziare che appunto passa dallo Stato di Malacca e va verso la Cina continua. Consideriamo che lo stretto di Malacca, nel suo punto più stretto, stiamo parlando diciamo di due chilometri e qualcosa, navigabili, perché non bisogna guardare il mare, bisogna guardare anche i fondali, ovviamente stiamo parlando di superpetrolieri, supernavi contegni, hanno bisogno di un pescaggio via alternative più lunghe ma che comunque devono passare da degli stessi, devono passare Malacca, Sonda, diciamo tutto quanto. E poi commercio. Questa nostra globalizzazione così immateriale è fatta di cose che vengono costruite e spostate da qualche altra parte. Questa è tutta la Cina, la manifattura cinese. Questa è diciamo l'area costiera cinese che è la più guardacasa industrializzata, poi esporta, diciamo, esporta in porta, soprattutto esporta via Suez verso l'Europa e poi attraverso il Pacifico, attraverso l'Atlantico si connette diciamo alle Americhe e quindi questo rende diciamo questa porzione di mare uno dei punti nodali di una delle tre grandi rotte marittime che oggi reggono, diciamo, i commerci ma anche le proiezioni marittime militari mondiali perché poi da lì bisogna passare. Cioè che è la rotta Cina-Europa attraverso poi diciamo l'Oceano Indiano e su per il Golfo Persico o per il Mar Rosso a seconda, quindi eventualmente il Golfo Persico stretto di Hormuz oppure Canale di Suez Mediterraneo e appunto diciamo poi le altre due rotte sono quella Atlantica e quella Pacifica. Quindi diciamo stiamo parlando di un tratto di male fondamentale anche perché diciamo inibire i movimenti lì è come inibirli per l'appunto nel Golfo mettendo la petroliera o affondando la nave per traverso lo stretto di Hormuz, cioè vuol dire infartuare una delle direttrici fondamentali attraverso cui si proiettano i commerci e anche la potenza navale. Quindi Dario insomma come diceva Fabrizio questa è un po' una giugolare cinese, no? Perché da un lato gli arriva il petrolio, dall'altra può esportare le merci per le rotte. Però come abbiamo detto in altre puntate di Mappamundi il controllo dei mari appartiene agli Stati Uniti. Quindi questa è la grande debolezza cinese in questo frangente. Sì perché Fabrizio aveva detto in pochi secondi all'inizio ha inserito un dettaglio che non è un dettaglio. Diceva non è soltanto una questione di mezzi la trasformazione da potenza terragna a talassocrazia, cioè potenza marittima. Noi ce ne siamo occupati tante volte, è una questione soprattutto antropologica. In particolare ne hai scritto parecchio. È scritto parecchio ed è qualcosa che la Cina non ha e anche delle deficienze strutturali che per ora le impediscono di averla. Insomma la Cina non è soltanto una potenza terrestre per vocazione o per storia, ma molti problemi sulla terra per guardare soltanto al mare. Cioè in fondo la muraglia cinese è stata creata molti secoli fa per evitare invasioni di terra ovviamente. Ed è questa la preoccupazione storica che la Cina ha avuto ed ancora. Oggi minore, ma è comunque terrestre la preoccupazione principale che ha, che a qualcuno può sembrare strana, che è quella riguardante i suoi stessi cittadini. Cioè il primo compito dell'esercito cinese è controllare la propria popolazione, non impedire invasioni, anche ovviamente altrui. Questo non consente alla Cina di distogliere gli occhi dal proprio territorio o dal continente in quanto tale. Se aggiungiamo il fatto che ha necessità di tenere anche l'India, come dicevamo, sul territorio e per questo la provoca sull'Himalaya, affinché non si consenti sui mari da cui dipende, per quello che dicevi tu, per il proprio approvvigionamento energetico e per le esportazioni. Ha diverse ragioni, alcune fisiologiche, alcune autoindotte per guardare ancora la terra. Scusate, non ha affatto quel cambiamento antropologico che conduce ai mari. Cioè la Cina non guarda il mondo dal mare. Oggi ad esempio non sarebbe in grado di riprendersi con grande facilità Taiwan, che venne dato per scontato, anche questo è quasi incomprensibile. Se la Cina decidesse di riprendersi Taiwan, Taiwan ha una marina di tutto rispetto, ha postazioni militari e missilistiche di tutto rispetto e poi ci sono gli Stati Uniti. Diventerebbe complicatissimo per la Cina riprendersela con la forza, dico Taiwan perché Xi Jinping ha annunciato questa intenzione, non è fantasia. Tutto questo non c'è e aggiungiamoci anche in conclusione che gli americani stanno cercando e in parte ci stanno riuscendo di tessere quella tela, come dicevamo all'inizio, di alleati propri degli Stati Uniti, che non sono della Cina ma che sono locali che contribuiscono alla per l'ustrazione dei mari insieme agli americani in funzione antiscinese. Quindi già il dominio americano sui mari rimane. Se a questo si aggiunge la partecipazione di marine veramente fondamentali, molto costruite e cruciali e potenti, come quella giapponese ad esempio, ma anche in parte quella australiana, quella sudcoreana, quella indiana un giorno, l'India ad esempio ha il lascito culturale degli inglesi che potrebbe mettere a disposizione dell'impresa, per la Cina diventa molto complicata. Questo è il quadrato più ampio che poi vediamo dopo di coinvolgo sulla carta del Pacifico. Però chiudiamo il discorso sugli stretti, Fabrizio, su Singapore, che se c'è un paese che si fonda sul mare e sui commerci è proprio Singapore, che è proprio all'inizio di quello stretto di Malacca che abbiamo visto prima e già vediamo da questa cartina come già una singola porzione di quello stretto che tu dicevi è molto... Lo stretto nello stretto, lo stretto di Singapore. Lo stretto nello stretto dove appunto vediamo... Sì, Singapore è un caso molto interessante, a parte che è interessante in sé perché comunque diciamo è di fatto un microstato che è assurdo a potenza sotto vari punti di vista, quella finanziaria sicuramente, ma anche quella industriale. Singapore è anche qui, vale la pena parlarne anche ancorché brevemente in questa fase poi nel volume ampiamente analizzata, in più di un articolo, proprio perché è se vogliamo un po' sintomatico come caso. È un caso diciamo di un paese che come praticamente tutti qui ha un forte lascito coloniale, ma che a differenza di altri ha saputo fare il suo lascito coloniale un'arma, un'arma nel senso a suo vantaggio, soprattutto per quanto riguarda la proiezione marittima e la proiezione aerea, nel senso di essere uno hub, uno snodo del traffico aereo e questo diciamo la rende più grande di ciò che è, se vogliamo, anche da un punto di vista di proiezione della propria sovranità, che è una sovranità che tra l'altro viene esercitata, e questo è l'altro dato un po' sintomatico della regione, attraverso un tipo di regime politico che definire democratica e liberale è francamente un po' inesatto, ma che però allo stesso tempo riesce fondamentalmente a contemperare un livello sufficiente di libertà, soprattutto economica in questo caso, ma diciamo generale, un tipo di governo non propriamente autoritario o dittatoriale, nel senso a cui siamo abituati a pensare quando pensiamo ai regimi autoritari, con però un livello di controllo sociale e anche giuridico sufficiente a fare di questo un portofranco sicuro, perché per essere portofranco non bisogna essere una terra di nessuno, bisogna essere una terra di qualcuno governata col pugno di ferro e Singapore è anche questo. Chiaramente Singapore è uno dei paesi che proprio per la sua esiguità deve fondamentalmente tutta la sua proprietà all'apertura all'esterno, finanziaria, marittima, quindi commerciale, manifatturiera, è un'economia che vive di export. Singapore, ce l'abbiamo presente tutti, una delle tigre asiatiche, piena di grattacieli, ma Singapore non ha nemmeno all'interno del suo territorio, inteso anche come fascia marittima, la sabbia sufficiente alla propria edilizia. Singapore senza il commercio internazionale non sarebbe niente, eppure per esempio oggi insieme a Taiwan, e questo è anche singolare della contraddizione di quest'area, è uno dei fornitori, specialmente in questa fase con le sanzioni americane, uno dei fornitori fondamentali di semiconduttori e di microchip alla Cina. Cioè senza i microchip soprattutto, ma in parte anche i semiconduttori singaporeani e taiwanesi, i cinesi non costruiscono la loro robotica e la loro intelligenza artificiale. Ecco, da una situazione di, come slogan potremmo dire, deglobalizzazione, per essere un po' più precisi, diciamo di aumento delle tensioni geopolitiche e quindi anche economico-commerciali tra Cina e Stati Uniti e i loro clientes, in senso lato, o comunque i paesi che in qualche modo afferiscono all'una all'altra sotto un punto di vista, la sicurezza oppure l'altro dell'economia, ecco da questo Singapore ha molto da perdere. Ma Singapore da questo punto di vista è il paese che più di altri ha da perdere, ma è un po' ripeto tutta la regione di cui Singapore è un esempio un po' sintomatico che si trova in questa situazione. Quindi il caso singaporeano, oltre che affascinante in sé, è anche, se vogliamo, un po' riassuntivo di svariati dilemmi che incrociano questa regione. Infatti è una regione di dilemmi, direi, e invito ad acquistare e a leggere l'IMES perché appunto questi paesi sono contesi e hanno posizioni anche complicate, insomma, da spiegare nei pochi minuti che abbiamo. Quindi l'invito ovviamente a approfondire queste questioni sul volume di l'IMES. Ma in conclusione, Dario, allora mostriamo questa carta, il Pacifico degli Stati Uniti, così abbiamo un po' quell'idea del quadro generale a cui accennavi prima, di cui stavi parlando prima. Quindi abbiamo, qui vediamo proprio gli Stati Uniti che noi siamo abituati a vedere sul quadrante, diciamo, atlantico europeo, dove anche lì si gioca una partita importante, ma ne parleremo, ne abbiamo anche già parlato. Avremo molte occasioni. Ma qui appunto sul Pacifico, no? Sul Pacifico c'è un Giappone in crescita, un Giappone che non è potenza nucleare ma ha talmente tali riserve di plutonio che potrebbe diventarlo... Come se lo fosse, di fatto lo è. Si dice che il Giappone è il bicchiere col ghiaccio che aspetta solo il whisky, si dice, negli ambienti del Pentagono. A tutto, la materia prima, della tecnologia, quindi... Qualora volesse? Abbiamo l'Australia, no? Di cui parlavi prima, che qui vediamo appunto... E abbiamo degli Stati Uniti che, ricordiamolo, anche la Seconda Guerra Mondiale, no? Il Pacifico è un quadrante fondamentale. Come? Gli Stati Uniti sono potenza atlantica e pacifica allo stesso tempo, per dire un'ovvietà. Il Pacifico è la loro porta dell'estremo occidente, paradossalmente, cioè all'incontrario. Gli americani quando arrivano in California, attraverso l'esplorazione del Nord America, non si fermano, vanno oltre, quindi poi arriveranno alle Hawaii, prenderanno le Filippine come colonia, siamo alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, quindi hanno nel Pacifico l'estensione con una protesi di sé che poi li conduce in Asia, quello che per loro è l'estremo occidente che poi diventa ovviamente estremo oriente. Quindi siamo veramente in un ambito di crucialità dove gli americani realizzano, per questo torniamo sulla dimensione marittima, il contenimento marittimo della Cina. Tutto ciò che abbiamo descritto sugli Stati Uniti, finora anche in questa nostra presentazione, è il contenimento marittimo della Repubblica Popolare attuato dagli Stati Uniti. Attraverso quelle, quindi ci riallacciamo alla questione della missione imperiale che loro chiamano con un terribile acronimo inglese FONOP, che sono le operazioni marittime di libertà, cioè la libertà di navigazione resa in movimenti sul mare, che si sono dal 79, dalla fine degli anni 70, ma che sono state rilanciate in questa fase in funzione anti Repubblica Popolare, come è ovvio, e complicano la vita la Cina nel contenimento marittimo, che peraltro, paradosso nel paradosso, ma paradosso manco per niente, gli americani vorrebbero rendere anche terrestre, cioè non si accontentano di avere un contenimento pacifico o anche semplicemente asiatico marittimo della Cina. Lo vogliono terrestre, in che modo? Ad esempio parlando a lungo con la Corea del Nord. Il vero obiettivo degli abboccamenti che proseguiranno nei prossimi anni, quindi prepariamoci tra Corea del Nord e Stati Uniti, non è, anche per carità, se la Corea del Nord non avesse l'arma nucleare a Washington sarebbero certo dispiaciuti, ma quella ce l'ha, insomma, Kim Jong-un o chi per lui è abbastanza lucido da non voler fare la fine di Gheddafi, quindi, o di Saddam, quindi non rinuncerà certamente all'arma atomica, ma gli americani parlano con Pyongyang perché vorrebbero avvicinare a sé la Corea del Nord e un po' ci stanno riuscendo. Oggi la Corea del Nord, anche nelle carte che abbiamo preparato per questo numero con Laura Canali, la segnaliamo come indipendente, cioè non è più un paese semplicemente dentro l'area di influenza cinese, sebbene dalla Cina dipenda per ragioni economiche, ma guarda al mondo con una sua visione che gli americani vorrebbero tirare a sé, perché che cosa sognano nel lunghissimo periodo e nemmeno così lunghissimo? Distanziare i propri militari, forse per un'esercitazione, per una visita amicale sul territorio nordcoreano, che vuol dire al confine terrestre con la Cina, sul fiume Yalu, lì dove Mao sacrificò il suo figlio prediletto per evitare che gli americani arrivassero esattamente su quel fiume. Quindi il contenimento non è soltanto pacifico e non è soltanto marittimo e da ultimo, visto che non abbiamo parlato ma vale la pena, ci occupiamo nel numero, le Cine a cui faceva riferimento Fabrizio, che non sono tutte di sì, come recita il titolo di un nostro volume fortunato di qualche mese fa, tra queste c'è Taiwan, abbiamo parlato, c'è Hong Kong, paradossalmente c'è anche Singapore, Fabrizio ha scritto un interessantissimo saggio su questo numero su Singapore, Singapore è abitato per oltre il 70% da cinesi, eppure non è filo cinese in assoluto, anzi concede agli americani l'utilizzo di due basi sul proprio territorio e va scritto fra le Cine, che non sono di Pechino, senza dubbio, e poi siamo in piena attualità dei fatti di Hong Kong, che gli americani cavalcano più o meno magistralmente, ma ci vuole poco, in un caso di sindrome di Stoccolma in cui una popolazione locale rimpiange un sistema coloniale che tutto era tranne che democratico, cioè quello britannico, ma raccontato veramente il sprezzo del pudore in questa maniera, semplicemente perché parlano cantonese e non si sentono per tradizione, per storia appartenere alla Repubblica Popolare. Queste deficienze che non sono marittime, o almeno non soltanto marittime, sono utilizzate dagli americani in maniera molto semplice, con profitto, e determineranno parzialmente chissà, forse qualcosa anche di più, lo scontro con la Cina nei mari e altrove. Allora, grazie Fabrizio, grazie a Dario, e vi ricordo quindi l'Indo-Pacifico non è pacifico, il volume di Lima è segnidico, la libreria è online, e vi do appuntamento alla prossima puntata di e vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.